eccoci buonasera ci sono delle serate da quando è cominciato la guerra in cui abbiamo cominciato dalle notizie diplomatiche e questo in qualche modo fa sperare ha fatto sperare in quelle giornate e che avesse il sopravvento una logica di buonsenso o comunque diplomatica negoziale che per me stesse di vedere la classica fatidica luce in fondo al tunnel oggi il tunnel della guerra è ritornato molto buio per quel che è accaduto in una città dell'est molto vicina a donetsk a quella zona del donbass che è l'origine di tutte le tensioni tra ucraina e russia lì alla stazione di kromatarsk che cosa è successo è successo che praticamente c'erano centinaia centinaia migliaia di persone che aspettavano un treno per scappare per andare al sicuro e lì sono arrivati dei razzi che hanno fatto strage 50 morti e il bilancio fino adesso ci sarebbero 10 bambini tra di loro decine e decine di feriti la responsabilità quasi evidente si è detto della russia anche perché sul sui razzi c'era una schi su un razzo c'era una scritta zadeti per i bambini per in qualche modo in onore per vendicare i bambini e i bambini possono essere quelli del donbass e si voleva quindi pensare a una vendetta terribile se non che i russi smentiscono di aver compiuto quell'atto come hanno già fatto per buccia pure oggi a buccia sono arrivate nuove conferme da altri documenti indipendenti e quindi c'è il nuovo rimpallo di responsabilità ma ci sono i morti c'è una nuova strage e ci sono evidentemente posizioni ormai lontanissime l'altro fatto invece è importante per noi per l'europa e anche per zelensky perché la presidente della commissione di bruxelles ursula von der leyen è andata a kiev ha incontrato zelensky insieme a borrell che è il ministro degli esteri della dell'unione e gli ha consegnato formalmente la busta con il questionario per chiedere l'adesione all'unione europea un passo formale un passo necessario per sentire più vicina all'europa e per iniziare un percorso che davvero potrebbe portare e kiev nell'unione certo ma è ovvio che sarà tutto molto lungo quello che è sicuro è che ursula von der leyen non si è fermata lì è andata poi a buccia vedere di persona quello che è successo nel primo dei massacri che abbiamo conosciuto di gente inerme su cui c'è il rimpallo di responsabilità e come vi ho detto ci sono nuovi documenti oggi che che inchiodano le responsabilità russe e vengono proprio dalla russia peraltro ma non c'è soltanto questo come sapete il nostro governo e non si fa mancare nulla e ci sono polemiche fortissime al suo interno sulla questione del fisco e c'è una partita aperta ormai tra le forze politiche che intravedono a distanza di mesi e non più di anni il traguardo delle elezioni al compimento della legislatura ma come vedremo peraltro c'è una compostezza che è doverosa ma soltanto perché ci si è ricordati che anche noi facciamo parte di un'unione che partecipa in qualche modo aiutando coloro che sono stati invasi a a cercare di fronteggiare una guerra che come sappiamo arrivata al 44esimo giorno condizionerà anche il nostro telegiornale di stasera ci vediamo tra pochi secondi il 44esimo giorno di guerra è pesantemente segnato dall'attacco missilistico che ha colpito la stazione ferroviaria di Kramatorsk la città del Donetsk dalla quale migliaia di civili aspettavano di essere evacuati il bilancio provvisorio di oltre 50 morti di cui 10 bambini e più di 100 feriti l'Ucraina accusa Mosca che nega e parla di provocazione a bucia abbiamo visto l'umanità andare in frantumi ha detto la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen che prima di andare a Kiev ha visitato le fosse comuni insieme all'alto rappresentante per la politica estera Borrell e poco fa nell'incontro con Zelensky ha consegnato al presidente ucraino la borsa con la busta con il questionario per l'adesione all'unione europea dicendosi convinta anche che l'Ucraina vincerà la guerra e garantendo che l'unione contribuirà alla ricostruzione e proprio oggi Bruxelles ha licenziato il quinto pacchetto di sanzioni contro Mosca ma sul petrolio e non parliamo del gas è scattato il freno a mano per mancanza di unanimità intanto dagli Stati Uniti Joe Biden ha condannato l'ultima atrocità attribuita a Mosca e se il pentagono ritiene che Putin abbia ormai rinunciato a conquistare Kiev Biden si impegna a potenziare i rifornimenti di armi annunciando anche che gli USA schiereranno un sistema di difesa missilistico Patriot in Slovacchia Buonasera e anche oggi il telegiornale deve partire da notizie e immagini di guerra perché lo si è saputo questa mattina nelle prime ore della mattinata cominciavano ad arrivare notizie frammentarie proprio quella stazione di Kramatorsk che era stata vista nei giorni scorsi come il luogo da cui transitavano tutti i disperati che fuggivano dalle zone in cui c'era più pericolo proprio quella stazione era stata presa di mira da missili che hanno fatto una strage come si sa si parla di ormai più di 50 morti si parla di molti bambini tra le vittime ma vediamo subito Missili russi hanno colpito la stazione ferroviaria di Kramatorsk utilizzata per evacuare i civili in fuga dal Donbass è un'ansa delle 10 e 24 italiane a diffondere la notizia che segna la 44esima giornata della guerra di Putin e scatena un rimpallo di responsabilità nel quale però gli indizi sembrano portare tutti a Mosca Kramatorsk si trova nell'oblast di Donetsk nella parte di Donbass ancora sotto il controllo ucraino è qui che ogni giorno si assiepano migliaia di persone in attesa di sfuggire come da indicazione che da giorni arrivano dalle autorità di Kiev alla prevista intensificazione dell'offensiva russa per rendere l'idea dell'affollamento queste sono immagini di ieri quindi non risulta difficile credere al sindaco di Kramatorsk Aleksandr Gonciarenko quando dice che questa mattina alle 10 in stazione c'erano oltre 4.000 persone le conseguenze non potevano che tradursi in una strage di innocenti almeno 50 morti tra i quali 5 bambini e diverse decine di feriti che gli ospedali locali fanno fatica a soccorrere questo è il bilancio più recente l'ennesima tragedia di una guerra che non si ferma la cui paternità viene immediatamente da parte ucraina attribuita alla Russia del resto poco prima che la notizia diventi di dominio pubblico e lo stesso ministero della difesa russo a rendere noto di aver colpito con missili di precisione tre stazioni nel Donbass senza specificare quali inoltre molti canali telegram di propaganda russa affermano che le forze di Mosca stavano lavorando contro ammassamenti di truppe ucraine alla stazione di Kramatorsk post presto spariti parallelamente al cambio di narrazione dello stesso ministero della difesa di Mosca che nega ogni responsabilità e anzi la attribuisce ad un battaglione missilistico ucraino che lo avrebbe condotto dalla località di Dobropolie allo scopo di impedire ai civili di partire per usarli come scudi umani una provocazione ucraina la definisce il portavoce militare dei separatisti filorussi del Donetsk Edward Bashurin secondo il ministero degli esteri ci sono prove evidenti delle responsabilità ucraine cui Kiev non potrà sottrarsi la prova regina starebbe nel missile utilizzato un Tocchkao secondo Mosca in dotazione esclusivamente alle forze armate ucraine ora al di là delle affermazioni della commissaria per i diritti umani del Parlamento Ljudmila Denisova e del consigliere presidenziale Lelixia Restovic in base alle quali la stazione sarebbe stata colpita dai russi con un missile a grappolo ad alta precisione Iskander sembrerebbe effettivamente che sia stato utilizzato un Tocchkao come del resto aveva dichiarato lo stesso presidente Zelensky il problema è che come provano anche queste immagini quel tipo di missile è in possesso anche dell'esercito russo e poi c'è la scritta in russo sul motore del missile per i bambini vi si legge una formula grammaticale che non indica un auspicio ma la volontà di vendicare dei bambini uccisi forse dagli ucraini nel Donbass insomma molte strade portano direttamente a Mosca Zelensky in un post su Facebook parla di russi disumani che non abbandonano i propri metodi e distruggono cinicamente la popolazione civile per poi rincarare la dose di fronte al Parlamento finlandese in questo modo Mosca protegge i russofoni nell'Ucraina orientale si chiede nel tardo pomeriggio arriva anche la reazione del presidente statunitense Biden che via Twitter definisce la strage di Kramatorsk l'ennesima orribile atrocità commessa dalla Russia e a Kramatorsk c'è il nostro inviato è arrivato da poco il nostro inviato Fabio Angelicchio Fabio Sì buonasera direttore siamo appena arrivati allora questo è l'ingresso della stazione chiedo a Giuseppe Fiasconare l'operatore di inquadrarlo naturalmente è chiusa c'è già tutta la fettuccia chiaramente hanno transennato tutto quanto questo appunto l'ingresso della stazione andiamo vi facciamo vedere però adesso vi facciamo vedere quello che resta perché qui ci sono i rottami delle automobili che erano parcheggiate qui davanti giù in fondo vedete dei militari sono subito arrivati con due mezzi blindati ci hanno chiesto naturalmente generalità che cosa volessimo altro ecco i rottami delle auto sono state colpite dalla violenta esplosione dei due missili che sono caduti proprio qui sulla stazione di Kramatorsk almeno 50 le vittime oltre un centinaio i feriti vedete queste auto si sono incendiate naturalmente c'è stata poi un'esplosione dovuta ai serbatoi naturalmente la zona è presidiata ci sono dei mezzi blindati che noi naturalmente non vi inquadriamo sono messi l'intorno ci sono anche i soldati vedete le carcasse delle automobili arrivare qui non è stato semplice direttore lo dico perché naturalmente tutta la zona del Donbass come stai dicendo e ripetendo anche tu da giorni è diventato un obiettivo dei russi non è assolutamente una cosa da non dire perché questo è l'obiettivo appunto quindi i controlli sono rafforzati abbiamo visto molti mezzi militari abbiamo visto soprattutto molte auto di civili che sono davvero in fuga delle lunghe colonne di auto che appunto con delle masserizie delle cose caricate alla bene e meglio anche sul tetto delle automobili stanno cercando di lasciare la zona il paesaggio è spettrale la città è completamente al buio c'è il coprifuogo ma soprattutto non ci sono luci nella città se possiamo inquadrare qui intorno vedrete che è completamente buio le uniche luci sono quelle della telecamera e quelle dei fari della macchina che stiamo utilizzando per il resto è davvero un paesaggio spettrale e questo è quello che resta poi naturalmente domani con la luce del giorno potremmo documentarvi meglio la situazione perché non è possibile chiaramente accedere all'interno della stazione e nel luogo prego già molto così grazie grazie Fabio Angelicchio hai fatto al meglio grazie tante ci hai reso la situazione ci hai fatto capire dopo le immagini che abbiamo visto della strage qual è la sua portata anche vedendo cosa è rimasto di quella stazione di ciò che le stava attorno ma soprattutto l'orrore ulteriore di quel buio che avvolge che avvolge tutto dopo la morte di almeno 50 almeno 50 persone eppure eppure doveva essere per l'Ucraina un giorno importante in positivo perché a Kiev poi si è saputo anche a Buccia arrivava Ursula von der Leyen arrivava all'Europa nel giorno della strage di civili a Kramatorsk l'immagine di Ursula von der Leyen giunta in treno in Ucraina insieme a Giuseppe Borrell è potente e colma di significato esile dentro al giubbotto antiproiettile la presidente della commissione europea affiancata dal capo della diplomazia europea appare forte e determinata nelle strade di Buccia dove fino a poche ore fa erano riversi i cadaveri e da dove ha voluto iniziare il suo cammino a Buccia dice l'umanità è andata in frantumi qui è successo l'impensabile si è visto il volto crudele dell'esercito di Putin la sconsideratezza la spietatezza di chi ha occupato la città la vostra battaglia è la nostra siamo qui per dirvi che siamo dalla vostra parte i crimini di guerra russi commessi qui e altrove saranno indagati e perseguiti aggiunge Borrell che promette 7 milioni e mezzo di euro per supportare la raccolta dati delle persone scomparse e per sostenere il lavoro di ricerca delle prove del procuratore generale ucraino Buccia un tempo un luogo di villeggiatura e a soli 30 chilometri da Kiev dove gli alti rappresentanti europei incontrano poco dopo il presidente Sielensky è meraviglioso rivederti sono passati forse sei mesi dall'ultima volta dice Ursula von der Leyen sei mesi non so non ricordo dice stravolto Sielensky che accoglie e accompagna la delegazione giunta da Bruxelles all'interno dell'edificio dove seduti l'uno accanto all'altro in una cerchia ristretta intavoleranno quello che Kiev in un comunicato definisce negoziato e infatti quello che portano von der Leyen e Borrella a Kiev è una busta con all'interno il questionario da riempire per avviare il percorso di ingresso nell'Unione Europea siamo qui per darvi una prima risposta positiva dice la presidente della commissione se lavoriamo assieme sottolinea potrebbe essere anche una questione di settimane anche perché continua sono profondamente convinta che l'Ucraina vincerà questa guerra la libertà vincerà questa guerra così come il diritto di ogni paese di decidere il proprio futuro ci chiede ancora la linea il nostro Fabio Angelicchio perché ci fa vedere una cosa di cui abbiamo tanto parlato eccolo qui questo è il razzo che ha fatto la strage di Kramatorsk è il razzo con la scritta in russo eccolo qui Zadeti eccolo direttore questo è il razzo esattamente questo è il razzo c'è anche una scritta lì con la vernice bianca ma questo è il razzo che si è schiantato qui naturalmente con l'esplosione che puoi immaginare siamo a circa 80-90 metri dall'ingresso della stazione che vi abbiamo fatto vedere prima chiedo all'operatore se può girare intorno così vi mostriamo completamente i resti del missile ci hanno portato qui i militari in realtà a farcelo vedere ci hanno detto eccolo qui è dove è caduto il missile ecco potete vedere questi rottami sono immagini incredibili che vi stiamo mostrando naturalmente in questo in questo scenario che è davvero terrificante è completamente al buio vedere i rottami di questo missile che si è schiantato qui prima di appunto poi creare quello che ha creato la strage di 50 persone oltre 100 feriti eccole qui le immagini del missile bisognerà poi capire perché c'è un rimbalzo di responsabilità tra ucraini e russi di chi fosse questo missile se fosse in dotazione o meno alle forze armate ucranie o a quelle russe che in realtà lo hanno dismesso già dal 2020 così hanno detto quindi poi bisognerà appurare certamente questo è uno dei due missili che ha provocato quella strage di 50 persone erano persone civili che stavano cercando di scappare dal Donbass dove si aspetta nelle prossime ore una massiccia offensiva da parte delle forze armate russe a te direttore grazie grazie bravo Angelicchio abbiamo visto bravo non perché c'è il missile sono cose terribili ma questa è la documentazione che servirà poi a chi sta discettando da questa mattina sulle responsabilità e su chi sia stato davvero a lanciare questo ordigno attraverso i numeri i numeri di fabbricazione e anche la scritta di capire davvero qualcosa di più riguardo vedete quello che vedete qui è questo alettone di cui si parla che è appunto soltanto di questa tipologia di missile che fa quindi e lo vedete anche sopra fa quindi completamente decadere l'ipotesi che fosse un missile solo russo l'Iskander ed è soltanto questo missile che è di fabbricazione russa ma che è stato dismesso dall'armata russa e che è usata invece dagli ucraini però c'è una scritta obiettivamente c'è una scritta in in cirillico con parole in russo che quindi potrebbero voler dire appunto che che si tratta di un missile lanciato dai russi però abbiamo già detto tanto a questo riguardo spetterà adesso a chi indagherà di sapere è tutta la verità perché ci sarà chi potrà dire l'hanno scritto in russo perché leggessero i russi che chi si vuole vendicare quindi sarà un ginepraio senza fine uno scambio di accuse senza fine fino a che non si arriverà ovviamente a una verità scientifica una verità investigativa inoppugnabile cosa che non succede quasi mai nelle guerre per dire il vero andiamo a vedere piuttosto dopo aver visto il viaggio di Ursula von der Leyen e Giuseppe Borrell a Kiev dopo aver rivisto queste immagini del nostro inviato Fabio Angelicchio andiamo a vedere come oggi si sia andati avanti nelle votazioni sulle sanzioni nei confronti di Mosca l'embargo deciso oggi dall'Unione Europea nei confronti del carbone russo è di fatto l'ultimo passo prima della decisione che davvero potrebbe cambiare le sorti della guerra lo stop al gas e al petrolio di Mosca un passo che però alcuni stati dell'Unione non vogliono compiere chi per posizionamento l'Ungheria di Orban mentre per tutti gli altri si tratta di ragioni prettamente economiche ieri la Presidente della Commissione e l'alto rappresentante per la politica estera forse erano stati troppo ottimisti quando avevano dichiarato che il dibattito sul greggio sarebbe stato questione di ore tra i 27 su questo non c'è l'unanimità al punto che lunedì prossimo al Consiglio dei Ministri degli Esteri di Bruxelles la riunione più importante dopo il vertice dei capi di Stato la discussione sull'embargo al petrolio russo non sarà all'ordine del giorno perché fa sapere una fonte europea tanto non ci sarebbe accordo la Francia ricordiamo è a favore grazie alle sue centrali nucleari e Draghi per appoggiare la decisione ha coniato una frase che dopo il whatever it takes resterà nei libri di storia volete la democrazia o i condizionatori le resistenze più forti vengono dalla Germania pensate che anche nella decisione di oggi sul carbone Berlino ha chiesto e ottenuto una deroga di quattro mesi per i contratti già in essere e nel pomeriggio incontrando a Londra il premier Johnson il cancelliere Scholz ha ricordato che solo per il gas alla Germania occorreranno più di due anni per sostituire quello russo senza il quale la sua gigantesca locomotiva industriale va a finire su un binario morto del resto arriva oggi il bollettino di Banca Italia a ricordare che la Germania e l'Italia mostrano la maggiore dipendenza dalle materie prime provenienti dalla Russia e potrebbero essere tra le più colpite in via diretta e indiretta attraverso le catene globali del valore da un blocco delle esportazioni verso la Russia le stime degli economisti di disco sono fin troppo chiare una su tutte con l'embargo al gas russo compensato solo in parte da fonti alternative in Italia l'inflazione si avvicinerebbe all'8% quest'anno per poi scendere al 2-3% il prossimo questo per quanto riguarda le sanzioni annessi e connessi ma torniamo sul campo Francesca Mannocchi dall'Ucraina Vorzel 20 km da Kiev anche questa città come Irpin e Buccia ha vissuto settimane di occupazione russa anche questa città come le altre porta i segni dei combattimenti colpite le fabbriche le strade i magazzini alimentari colpita la centrale elettrica e le case civili questa è la sede del municipio sono da poco arrivati gli aiuti alimentari Oksana è la responsabile annota i nomi di tutti così dice cominciamo a contare chi sia rimasto qui e chi ha lasciato la città siamo rimasti settimane isolati razionando il cibo oggi abbiamo finalmente ricevuto gli aiuti così gli anziani possono venire a prendere un po' di pane farina e un po' di olio dopo le testimonianze di bucia i morti in strada le fosse comuni cominciano a emergere lentamente e con fatica le storie di abusi a danno della popolazione civile da parte delle truppe russe Ludmilla Pekan vive qui con sua madre e suo figlio Eugene c'erano 100 persone qui quando sono arrivati i russi ci hanno costretto in cantina poi hanno occupato casa nostra Ludmilla mostra gli abiti dei russi rimasti a terra restavano appostati qui dice impedendoci di scappare abbiamo vissuto giorni di terrore siamo stati ostaggio dell'esercito russo in questo scantinato dove Ludmilla ci conduce hanno vissuto 10 famiglie anziani donne e bambini i soldati hanno impedito ai malati e alle donne di essere evacuati un giorno Ludmilla Shabanova una sua amica ha provato a scappare ma i russi le hanno sparato qui nel giardino oggi c'è la sua tomba due giorni dopo impauriti dai combattimenti che infuriavano intorno alle campagne di Vorzel altri uomini e ragazzi hanno tentato la fuga il figlio di Ludmilla Eugin mostra la giacca dell'uomo colpito dai russi ancora macchiata di sangue quel giorno a morire ucciso a sangue Freddo è stato un ragazzino di 14 anni anche lui sepolto nel terreno dietro casa di Ludmilla Eugin racconta che più volte gli uomini siano stati costretti a denudarsi fuori all'esterno presi a calci perché i russi volevano informazioni militari che però nessuno di loro poteva dare sulla porta dello scantinato la scritta bambini c'erano 20 bambini qui dentro dice Eugin li abbiamo chiusi in una stanza per non far vedere loro i cadaveri non hanno visto ma hanno sentito tutto oggi però anche delle novità su quella strage che ha cambiato già da molti giorni il corso emotivo di questa guerra buccia e pensate che queste immagini arrivano per opera di un canale alternativo e di opposizione russo le nuove prove delle responsabilità russe a buccia le ha pubblicate oggi il sito di giornalismo d'inchiesta indipendente Meduza uno dei cinque media russi che a fine marzo ha intervistato in videoconferenza il presidente ucraino Zelensky i giornalisti di Meduza hanno ricostruito i giorni dell'occupazione di buccia grazie ai filmati dei droni registrati secondo i metadati dei file e verificati da esperti dal 23 al 30 marzo ed il timing è fondamentale per attribuire data e paternità del massacro il video del 23 marzo è coerente con le foto satellitarie di Maxar Technologies analizzate da New York Times i corpi dei civili giacciono su via Jablonska la loro posizione coincide col firmato rilasciato il primo aprile e anche con le foto dei giorni successivi alla scoperta dell'orrore quanto emerge conferma ciò che vi avevamo mostrato due giorni fa ma Medusa aggiunge tasselli importanti al mosaico il drone il 23 marzo mostra a poca distanza dai cadaveri la presenza di un mezzo da combattimento russo lo stesso accade il 24 qualche decina di metri più in là e anche il 25 di marzo ma il 29 e il 30 gli equipaggiamenti militari sono sparite dalle rispettive posizioni e questo è in linea con quanto dichiarato dal ministero della difesa russo il ritiro da Gostomel Buccia Irpin il 30 marzo anche se diversi soldati sono rimasti in zona anche Medusa ricostruisce il coinvolgimento di Buccia nella guerra le forze speciali russe sono comparse il 25 febbraio in questo video i soldati avanzano nelle strade e diversi civili potrebbero essere stati uccisi in questa occasione lo stesso giorno un missile lanciato dall'elicottero mi24 colpisce la cittadina altre testimonianze sono i veicoli militari ucraini distrutti e i primi feriti tra la popolazione civile il 27 è il giorno delle truppe aviotrasportate che entrano a Buccia con i carri armati anche Medusa conferma che le battaglie più cruente durano fino ai primi di marzo quando gli ucraini riescono a riprendere possesso di parte della città e a distruggere i mezzi degli occupanti il 5 marzo le truppe russe sono stanziate a Vorzel un villaggio vicino a Buccia l'8 marzo c'è il tentativo di un corridoio umanitario che permette a parte della popolazione di lasciare la città ma in quei giorni i russi riprendono il controllo della zona la composizione dei corpi militari cambia più volte sostiene Medusa da allora a fine marzo non ci sono combattimenti intensi i civili forse sono uccisi a vista come nel caso del ciclista rilevato dal drone oppure giustiziati non ci sono prove di morti in seguito ad attività militari a Buccia ci sono pochi incendi nel periodo di marzo e gli edifici sono quasi tutti intatti la fonte di Medusa è un neonazista pielorusso Sergei Bosman Korotki che combatte con gli ucraini e che è stato accusato dai russi di essere uno degli autori dei massacri tutti i filmati forniti sono grezzi con i metadati originali e smentiscono la tesi russa il materiale è a disposizione su Google Drive il link è sul sito di Medusa Siamo in una nuova fase della storia dell'umanità in cui nulla si nasconde ma se mai ci sono fin troppi dati per rielaborare quello che è accaduto in Italia come spesso accade di fronte a una situazione così grave a livello internazionale riaffiora anche qualcosa di più di più locale Quindi abbiamo chiesto un incontro a Palazzo Chigi non solo come Lega ma come intero centrodestra perché nel provvedimento fiscale c'è scritto c'è scritto che si ipotizza un aumento del sistema annuale delle tasse sui botte sui titoli di Stato e quindi sui risparmi sulla cedolare secca sugli affitti e con la riforma e il catasto evidentemente se aumenta il valore di una casa aumentano le tasse che i cittadini pagano sulla casa C'è la guerra c'è la pandemia ancora in corso ipotizzare l'aumento non è immaginabile mi fa piacere che Draghi a parole dica che non voglia aumentare le tasse ma la Lega e il centrodestra non possono votare un documento dove invece c'è scritto il contrario aggiunge ancora Salvini il segretario della Lega insiste evidentemente non rassicurato dall'invito ufficiale esteso a tutti i leader del centrodestra annunciato ieri da Palazzo Chigi vertice convocato per la prossima settimana da Draghi dopo che non solo Salvini ma anche Forza Italia avevano minacciato di non votare il provvedimento sul quale lo stesso Draghi non aveva escluso il voto di fiducia l'altro ieri nella conferenza stampa di presentazione del DEF credo non si debba mettere la fiducia col testo così non è la riforma corretta della riforma del Catasto significa bloccare il mercato immobiliare conferma l'avvertimento il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani posizione più intransigente mentre le ministre azzurre Germini e Carpagna sembrano seguire una linea meno aggressiva confidiamo che un incontro con il presidente Draghi possa tranquillizzare i partiti e consentire al governo di continuare a lavorare dice esattamente la Gelmini a fare la sintesi tra le due posizioni ci dovrà pensare Berlusconi arrivato oggi a Roma in treno come documentato dallo stesso leader di Forza Italia per partecipare alla convention in corso del partito siamo favorevoli alla razionalizzazione e modernizzazione del Catasto ma respingiamo ogni ipotesi di nuove tasse sugli immobili avverte anche il capo dei 5 Stelle Giuseppe Conte non abbiamo mai pensato ad una crisi del governo Draghi ma serve fare di più per sostenere l'economia invece di aumentare le spese militari occorre concentrarci sulle reali esigenze i 5 miliardi previsti dal DEF non sono sufficienti dice ancora Giuseppe Conte minacce pretestuose dal centrodestra alla replica dei partner di maggioranza in particolare PD e Italia Viva dopo il blocco dei lavori seguito alla quasi rissa in commissione finanze di Montecitorio la delega fiscale potrebbe arrivare in aula dopo Pasqua senza relatore contro Salvini è durissimo l'intervento del segretario pidilletta in queste ore è in atto un tentativo pericoloso è sbagliato nei tempi nei toni e nei contenuti di creare una propagandistica messa in scena sul fatto che ci sarebbe un fantomatico partito che vuole aumentare le tasse sulla casa e un Robin Hood che vuole invece evitare questo fuori di metafora Draghi e il governo e noi che lo sosteniamo vorremmo chissà quali aumenti e Salvini invece difende i cittadini da noi cattivi è una balla gigantesca messa in capo per evitare che si parli di Putin della guerra e delle colpe che sono tutte di Putin attacca ancora l'ETA e scegliete la persona che la presenta Dopo di noi a otto e mezzo Lili Gruber ospita Lucio Caracciolo Franco Bernabè Olga Curlajeva poi c'è propaganda e tra gli ospiti di Zoro non manca Francesca Mannocchi ma neanche Ilaria Cucchi Filippo Timi Andrea Pennacchi Didi Bridgewater Kaki King Slava Marco Damilano Francesca Schianchi Filippo Ceccarelli Costanza Eroescher Memo Remigi Paolo Celata ci fermiamo Allora vediamo come ha chiuso molto bene oggi la borsa di Milano ha recuperato praticamente tutto quello che aveva perso nelle ultime due sedute vedete più 2,13% l'ultimo indice Fuzzi Mip è tutto Gruber Zoro ci vediamo domani se volete alle 17 se no alle 20 buonasera grazie a tutti Autore dei sovrapposti